Quello che abbiamo fatto su questo progetto è stato quello di aprire il design, di fare un concorso di design dove siamo andati a fare una sorta di crowdsourcing, anche se il termine è usato forse in maniera un po' impropria, però siamo andati a prendere le idee che venivano dall'esterno, non le abbiamo messo su internet, però abbiamo fatto una gara aperta a quelli che sono i centristili in Europa e nel mondo, perché abbiamo preso anche dei centristili a Singapore e in Giappone e in Corea anche, sono molto bravi, la Yotto l'ha disegnato un coreano, e abbiamo scoperto che il migliore design era quello di Lamborghini, No, perché infatti noi abbiamo fatto una gara dove tutti i modelli erano anonimi, non c'era scritto centro stile Singapore, centro stile... E poi i nostri presidenti chiaramente man mano li hanno scelti, quello che è lo sviluppo prodotto che dura 48 mesi, adesso dura 34, negli primi 11-12 mesi i modelli di stile vengono sempre più ridotti fino ad arrivare al dodicesimo mese, un solo modello di stile, quello che è stato scelto appunto per poi avere l'avvento. Grazie